ora marchese ho segnato siamo a 80 punti trentesimo scudetto trentesimo scudetto 80 terza stellina che ha detto che mette la terza del piero ha detto una terza dei tetti terza 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 e Coppa Italia Coppa Italia il Napoli che abbiamo vinto 3 a 0 in campionato ti ricordi no? ma che cazzo vuol fare siamo arrivati in finale per qualcosa e che abbiamo eliminato il Milan che cazzo doppietta del conte di un giocatore all'anata 2 a 1 a San Siro due volte li abbiamo battuti quante pere a Fiorentina? due quante pere a Fiorentina? cinque e quattro a Novara quattro papine ti ha scritto tua mamma questa è? e mi ha detto mia mamma goleata trentesimo scudetto chi? tua mamma fammi vedere trentesimo scudetto dove? sei dove sei? non c'è scritto trentesimo scudetto eh vabbè interpreto ma anche tua mamma ma sei tifosi da Juve terza terza venga vema scudia avvi altri sono una allegri vada andare via vada andare via vada andare via vada andare via vada vada trentesimo scudetto alla faccia delle merda rossonere merda rossonere merda rossonere merda eh sono da via non posso dare la cosa Ernesto no eh merda rossonere no no è un compleanno chi? dell'interista meglio coppa del nome ostrosso ciao ciao che fu una coppa del nome che è buono eh vediamo vediamo